compito del eh dell'appello posso parlare no? Nel senso che ci siamo già contati alle ore diciassette e quindici eravamo in numero di ventidue quindi non c'era il numero legale ventitré il numero ventitré per la per l'esattezza non c'era il numero legale e quindi eh dobbiamo per forza procedere ecco siamo in seconda convocazione dove non abbiamo ma siamo parecchi perché siamo più di quaranta così mi dicono adesso io procedo a una parte molto noiosa e burocratica facciamo l'appello e vi chiedo di rispondere bene allora Alessandrini Lara appolloni presente presente buonasera buonasera a tutti Augelli Tito assente Baccani Gaia presente Baccani c'è perfetto c'era anche prima Badiali Isabella buonasera presente Barbaresi Serenella perfetto c'era anche prima bene Bergantino Chiara Bergantino non c'è Bigi Mariella presente bene Bizzarri Valeria no Bolli Silvia presente la vedo presente Bizzarri c'è Bizzarri presente bene 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 Bon Giovanni Umberto Borrelli Giovanna Bucca Maria Luisa Cardinali Maria Letizia la ripresa eh no no Cardinali Maria Letizia Carnevali Cristina presente presente Buonasera Buonasera Cascio Chiara Catozzi Patrizia presente eccola la vedo sì Ceccarelli Catiuscia presente Ceccarelli c'è Ceccarelli Stefania Stefania c'era prima non è più collegata Ceccarelli Stefania no presente era ah scusa non ti ho sentito non ti ho sentito non ne ho sentito quindi c'è sia Stefania Stefania e Catiuscia entrambe Chechile Maria Teresa di nuovo buonasera presente bene Cimarelli Marinella presente Luisa Cirilli Paola presente presente Ciuffolotti Maria Vittoria no De Gennaro Margherita no De Paul Monica presente bene Faccenda Gabriele presente bene Fantone Tiziana Fazzi Maria presente presente Ferreri Elisa Ferreri non c'è Ferrucci Lorella c'è c'è signora sì Ferrucci c'è sì sì è quella però è presente Ferrucci Lorella ci aveva l'audio Ferreri Elisa no no grazie buonasera Ferreri Elisa non c'è però Ferreri no ok Fiorani Maria Grazia presente buonasera buonasera Fiorentino Silvia c'è eccola c'è il microfono spento signora Silvia Silvia Fiorentino ecco perfetto presente bene Focanti Agnese presente buonasera bene Gagliardini Norina l'ho vista presente c'ho il nome sbagliato niente va bene Gara Fabiane prima c'è e a tuttora Gervasi Giovanna presente Giacani Maria Carla presente bene Giannuzzi Antonella presente bene Giannuario Maria presente bene Grilli Virginia Grignice no Illuminati Irene no Lucchetta Marco presente presente l'ho visto prima sì Magnani Milva presente Magnani c'è sì sono bene non la sentiamo piano Marconi Broseghe Nadine spero che sia giusto prima sera c'è c'è benissimo Marinelli Laura presente buonasera buonasera ma se Anna Elisa presente ci sono benissimo Meli Rosa Anna Rita Meli presente bene Morbiducci Paola Morbiducci l'avevamo vista c'è Morbiducci no c'era 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 sì ho avuto problemi con la l'attivazione dell'audio bene qualcuno non ha risposto qui eh non capito eh chi è presente Morresi Maria Daniela presente 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 bene Palma Daniela presente Penterici Francesca presente perfetto Pigliapocchi Susanna presente presente bene Reni Virginia presente bene Ricci Antonella presente bene Ricci Monica presente bene c'è Chiara Cascio presente Chiara Cascio si è aggiunta e quindi Chiara Cascio torniamo indietro Cascio Chiara proseguiamo con Rosi Maria Cristina non c'è Santoni Emanuele che c'era presente buonasera è con noi bene Sardella Stella presente Saturni Letizia presente buonasera a tutti buonasera Schiaffi Serena Schiaffi non c'è Schiavoni Gianfranca presente buonasera a tutti buonasera Schiavoni Sabina presente buonasera Scolpechini Gianna no Sgardi Monica presente buonasera a tutti buonasera Tesei Giovanna presente si Trombetta Romina presente buonasera buonasera Uncini Cristiana presente bene Zappelli Margherita presente buonasera a tutti buonasera a tutti e Zoppi Nicoletta presente bene adesso facciamo il contesto c'è qualcuno che non ho chiamato quelli che non c'ha il puntino e quelli che non ha risposto però se li richiamiamo non so se fosse riaggiare no no che chiami c'è qualcuno che non ho chiamato no bene Sì ma sì 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 guarda un po' chi è entrato Chiara Cascio l'avevamo segnata 344 356 47 48 49 51 52 54 54 allora siamo in 54 arrivai qualcun altro si è aggiunto sono aggiunti altri due partecipanti gli ultimi due non so chi sono gli ultimi due chi è che si è collegato per ultimo se per cortesia ci dà il nome così lo annotiamo eh non lo so ecco l'amore tanto c'è Margherita De Gennaro Margherita De Gennaro Margherita De Gennaro si è collegata eccolo uno quindi siamo a 55 ne manca uno manca uno manca uno che non riusciamo a capire uno degli ultimi collegamenti non si vede da lì no non si vede l'ingresso è utente va beh allora io direi io direi siccome siamo abbondantemente sopra poi adesso penso non so se ci sarà il saluto del presidente o altro ma eh vi dico anche che con la lettera di convocazione abbiamo vi abbiamo invitato perché come vedete è molto difficile fare una riunione in questi termini insomma no meno male che abbiamo zoom perché altrimenti non ci saremmo potuti incontrare la facciamo ma ci sono effettivamente delle difficoltà operative oggettive ragione per la quale abbiamo chiesto di poter esprimere delle candidature non perché semplicemente perché volevamo vogliamo che i lavori possano diciamo andare più spediti perché all'ordine del giorno di oggi abbiamo l'insediamento del dell'assemblea è quello che stiamo facendo ma ci sono due adempimenti che sono iscritti all'ordine del giorno ovvero l'elezione del presidente dell'assemblea e l'elezione di cinque membri dell'assemblea che andranno al consiglio direttivo poi nel consiglio direttivo ma non la facciamo adesso molto complicata ci saranno anche due consiglieri comunali che verranno scelti nel consiglio comunale di del trenta e quindi avremo una composizione eh fatta con il presidente che è l'assessore alle pari opportunità due consiglieri comunali cinque membri eletti all'assemblea e il presidente dell'assemblea oggi come compito istituzionale salvo che l'assemblea decida diversamente ma il compito istituzionale è quello di andare alla nomina del presidente e alla nomina i cinque eh rappresentanti all'assemblea all'interno del direttivo per velocizzare i lavori abbiamo fatto richiesta a tutti quanti nella lettera che vi è arrivata di indicarci eventuali disponibilità e allora vi do lettura vi do lettura di chi ha lato la disponibilità per la carica poi credo che sarà opportuno che chi ha lato la disponibilità si presenti nel senso che magari non tutti li conoscete quindi magari chi ha lato la disponibilità in un tempo contingentato pensavamo su quattro minuti insomma ecco perché se no facciamo tanti insomma ma inviteremo quelli che si sono candidati in qualche maniera a presentarsi hanno dato la loro adesione come candidati alla carica di presidente le seguenti eh persone Basile Barbara Carnevali Cristina Chechile Maria Teresa Cimarelli Marinella Magnani Milva Marinelli Laura Ricci Monica e Schiavoni Gianfranca abbiamo anche un elenco di persone che hanno dato invece la loro disponibilità per far parte del direttivo e si tratta esattamente di tutte le persone che vi ho letto prima a cui si aggiungono ulteriori persone perché qualcuno ci ha detto dice io sarei anche disponibile a far parte del direttivo ma non me la sento di candidarmi a presidente allora abbiamo un secondo elenco fatto da tredici persone di cui vi darò lettura e sono quelli che si sono candidati a far parte del direttivo e sono esattamente è Milva che la candidatura è per il direttivo io non voglio fare il presidente dell'assemblea ah bene perché mi ha chiamato una signora mi ha detto che volevo confermare una candidatura e io ho detto sì benissimo allora sappiamo e quindi adesso faremo una correzione sappiamo che Magnani Milva non è candidata per la presidenza esatto benissimo quindi correggeremo perché stiamo preparando un form su cui potrete esprimere il voto allora candidati al direttivo sono Baccani Gaia Basile Barbara Carnevali Cristina Chechile Maria Teresa Cimarelli Marinella Cirilli Paola Ferrucci Lorella Giannuzzi Antonella Magnani Milva qui è inserita correttamente Marinelli Laura Ricci Monica Saturni Letizia Schiavoni Gianfranca questi sono i tredici candidati al direttivo mentre i candidati presidenti non sono più otto ma sono sette scusi posso io avevo dato la mia disponibilità anche per la presidenza però visto che si è ritirata la signora Milva se posso farlo anch'io perché non ci ho pensato insomma Basile quindi non conoscendo quanto posso essere impegnati ho paura allora anche Basile diciamo grazie preferisco rimanere al direttivo allora per correttezza Simone bisogna buon procedimento disciplinare allora esce praticamente dalla lista dei candidati Basile Barbara e Magnani Milva ok bene a questo punto non so se il presidente vuole fare un saluto dopodiché io direi che è possibile per i candidati insomma presentarci tu volevi intanto le finalità non so no volevo un attimo di leggervi le finalità della consulta perché poi ecco è importante sapere quello per cui andiamo a lavorare e e anche ecco insomma apprezzo molto coloro che dicono io non 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 voglio far parte del magari non voglio fare il presidente perché poi non so se ho tempo da dedicarci quindi è molto importante la responsabilità di ognuno per impegnarsi su qualcosa che poi comunque un lavoro lo richiede vediamo le finalità della consulta svolgere indagini conoscitive e consultazioni organizzare convegni e seminari promuovere progetti di educazione di genere e contrasto alle discriminazioni da sviluppare negli istituti scolastici del territorio comunale promuovere azioni volte a superare le discriminazioni dirette e indirette anche nei luoghi di lavoro delle donne attraverso progetti e iniziative di concetto con l'amministrazione comunale e con altri soggetti presenti sul territorio concorrere alla promozione e realizzazione di azioni positive e continuative volte a garantire la parità di genere e le condizioni di pari opportunità promuovere la presenza delle donne in ogni settore d'ambito incentivando la realizzazione di idee e progetti volte a valorizzare il ruolo all'interno della comunità svolgere opera di supporto incentivazione messe in rete delle associazioni gruppi femminili e di genere promuovere azioni dirette a rilevare le esigenze delle donne nel territorio collaborare con lo sportello antiviolenza della casa delle donne di chiesi partecipare proporre iniziative avvalendosi degli strumenti previsti da regolamento degli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini quindi istanze petizioni e proposte queste sono le finalità in generale della consulta io adesso siccome è presente con noi il presidente del nostro consiglio comunale che ha contribuito a stilare regolamento e ci tiene no molto a questa consulta che come voi vedete prevede la partecipazione anche degli uomini che io ringrazio in particolare ancora perché noi abbiamo fatto una consulta che abbia alla base l'idea di collaborazione partecipazione non di conflitto e contrasto quindi in qualche modo citerei che lui facesse un saluto a tutti voi grazie assessore buonasera a tutti intanto ringraziamento a voi per la partecipazione inaspettata almeno nel numero perché veramente è stata una sorpresa positiva ma un ringraziamento all'assessore campanelli perché è giusto dirlo in qualche occasione si è spesa molto per la realizzazione della consulta poi il consiglio comunale è stato in qualche modo il mezzo ovviamente democratico per la istituzione della consulta ma il merito di tutto il lavoro va ovviamente all'assessore gliene do pubblicamente atto anche perché è riuscito poi in poco tempo una volta approvato il regolamento della consulta per le donne per le pari opportunità a dare concretezza alla stessa e questa sera siamo tutti in qualche modo coinvolti positivamente un auspicio che la consulta ma poi aspettare agli organi della consulta farlo sia la più inclusiva possibile anche coinvolgendo quelle realtà cittadine ricche di iniziative di esperienza che al momento non sono presenti e coinvolte nella consulta faccio riferimento in modo particolare a alcune realtà come la casa delle donne che fa un lavoro straordinario egregio e che nel prosieguo dei lavori della consulta quando sarà operativa mi auguro possa essere coinvolta delle iniziative perché dovrà essere necessariamente coinvolta vista l'importanza del lavoro che svolge ringraziamento a tutte le donne coinvolte ringraziamento sono molto contento che ci siano anche dei uomini saluto in particolare qualcuno che conosco saluto Marco Luchetta Manuel Santoni e buon lavoro tutti adesso credo che ci sia la come diceva il dottor Torelli anche il dottor Torelli va ringraziato perché ovviamente dall'ideazione politica dell'assessore Campanelli poi l'aspetto operativo spetta in genere agli uffici quindi al dirigente il dottor Torelli insomma è quello che materialmente si è reso disponibile per la concreta realizzazione e la ideazione della consulta dottor Torelli non so se lei deve ecco allora io faremo un invito a chi si è candidato o per il direttivo o per la presidenza a questo punto diciamo non è importante insomma presentarsi perché appunto avremo ecco la necessità anche tecnica di conoscerci meglio qui è con me Simone Brunori insieme a Maila Coltorti che hanno qui anche contribuito c'era anche Nunzia Toti tutto l'ufficio un po' ha collaborato perché abbiamo dovuto studiare un metodo per fare la votazione per fare la votazione vi verrà lo dico sin da adesso poi lo ripeteremo altre volte ancora ma verrà mandato un link dove sono presenti i nomi che vi leggevo prima faremo prima la nomina del presidente e poi faremo la nomina dei membri del direttivo togliendo chiaramente la persona del presidente perché a quel punto è già stata eletta vi arriverà tramite link un elenco e lì a quel punto dovrete votare una sola preferenza una sola preferenza e attenzione perché il sistema è un sistema Google che è piuttosto delicato cioè possiamo votare una volta sola perché se diamo il tasto in via più volte risulterebbe che i voti si moltiplicano quindi quando arriverà a quel form si tratta di votare su quell'elenco su quell'elenco abbiamo messo i nomi di coloro che si sono candidati ma abbiamo messo anche una scheda bianca nel senso che teoricamente non mi piace nessun candidato e quindi voto scheda bianca spero che questo non sia perché insomma siamo tutti quanti alla nascita di questa consulta insomma spero che ci sia la partecipazione veramente veramente di tutti io non aggiungerei io non aggiungerei altro ecco nel frattempo stanno arrivando altri e cerchiamo di segnali è arrivato buongiovanni buongiovanni e a questo punto io chiederei la cortesia insomma chi vuole non c'è bisogno magari facciamo i nomi rifaccio i nomi rifaccio i nomi posso posso aggiornare farvi aggiornare la lista dei candidati alla presidenza sono sono Laura Marinelli mi ero candidata ma per motivi personali preferisco rinunciare e invece lasciare la mia candidatura per il direttivo allora benissimo benissimo speriamo speriamo allora a questo punto i candidati presidenti sono vi rileggo Carnevali Cristina Chechile Maria Teresa Cimarelli Marinella Ricci Monica e Schiavoni Gianfranca sono cinque e io li inviterei se possibile intanto a prendere la parola allora mi dicono anche qui abbiamo un piccolo problema tecnico che spiegava Simone Brunori che non vedete ma sta alla regia noi vediamo solo una paginata una paginata dei vostri volti in realtà le pagine sono due ragione per la quale chi vuole prendere la parola bisogna che ci fa un urlo oh tocca a me perché se no chi sta a pagina due non lo vediamo e non riesce in sostanza a prendere la parola noi vediamo solo una paginata quindi se per esempio Marinella Cimarelli alza la mano la vedo la vedo ma non vediamo altri candidati quindi io non so inviterei Carnevali Carnevali Chechile Cimarelli Ricci e Schiavoni intanto questi che sono i candidati presidenti alla presidenza a farsi avanti e darei se siete d'accordo un tempo di quattro massimo cinque minuti per una questione insomma ecco di praticità insomma anche perché in cinque minuti una persona riesce insomma un po' a raccontarsi insomma ecco credo sia un tempo abbastanza adeguato io ci sono vogliamo andare in ordine magari allora Carnevali Cristina eccomi se vogliamo andare in ordine così siamo siamo sì avrei aspettato non è un problema insomma allora mi sentiate tutti bene insomma le connessioni non ti sentiamo così bene Cristina c'hai allora adesso ok mi sentite sì adesso sì sì se no se no sarò costretta a scrivere nella chat no no va bene vai 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 spero mi sentiate ehm allora mi fa molto piacere perché vedo un sacco di di persone che che conosco e quindi sono molto contenta e vorrei salutare tutti ma eh ringrazio chiaramente sì ringrazio eh insomma il comune di Iesi e l'assessore Campanelli e tutti coloro che hanno lavorato per la creazione di questo nuovo organismo che penso possa fare tantissimo eh per qualcosa che a volte sembra sconosciuto o scontato ma in realtà eh è un aspetto che eh da una parte vanno sradicate alcune alcune diciamo così eh alcune idee che che passano per normali e non lo sono eh tutt'altro e dall'altro penso che si possa fare tantissimo eh non eh per le donne ma per la comunità proprio per cui eh sono contenta insomma grazie eh passo alla presentazione per chi non mi conosce eh mi chiamo appunto Cristina Carnevali eh sono mamma eh di un bambino di nove anni eh sono avvocato e eh sono da qualche anno il direttore di un quotidiano online eh mi occupo principalmente chiaramente della mia attività legale di fare informazione che eh in questi in questo ultimo anno è stato qualcosa che è diventato ancora più delicato dell'essere avvocato quindi eh insomma fare informazione è molto importante e penso appunto che eh potrebbe essere insomma tra uno delle cose che l'assemblea e che questa consulta potrebbe proprio fare e cioè informare eh su su tanti aspetti insomma delicati che che riguardano eh riguardano il mondo il mondo femminile ma l'essere donna in questa società eh per il resto eh insomma le cose da fare sarebbero tantissime io insomma spero che eh tutti quanti insomma ci spendiamo proprio per eh per fare quando sarà possibile e finché non lo sarà eh di trovare anche delle delle situazioni no che eh alternative perché purtroppo la presenza ora come lo vediamo anche adesso non è ahimè consentita ma eh penso che ci possano essere tanti modi per coinvolgere per fare comunque eh tante attività tanta informazione e tante cose ehm per il resto ecco la mia candidatura a presidenza eh diciamo viene dopo quella del direttivo perché in realtà insomma non eh diciamo così eh non è che aspiri a fare il il presidente per 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 qualcosa di insomma di di preciso ma se posso fare qualche cosa eh ovviamente eh il mio il mio impegno è totale per cui eh se dovessi ricoprire questo ruolo insomma mi eh mi permetto di dire che lo farò in maniera insomma eh puntuale e precisa ecco diciamo così con tutto il mio impegno e ma qualora insomma direttivo semplicemente far parte di questa assemblea per me già è eh diciamo un obiettivo raggiunto per cui vi ringrazio insomma del tempo che mi avete dedicato grazie Cristina eh adesso andiamo a Chichile Maria Teresa di nuovo di nuovo buonasera a tutti eh io non so quanti di voi sinceramente mi conoscono o comunque hanno sentito parlare di me io sono la se possiamo definirla così eh è comunque denominata da diversa stampa tra le quali anche oggi è uscito un articolo da parte di un giornale eh del Fabrianese la cosiddetta infermiera poetessa beh questo appellativo io lo porto addosso sulla mia pelle come seconda pelle e perché eh perché io nella vita faccio l'infermiera presso il Carlo Urbani lavoro in broncopneumologia e la mia esperienza anche da poetessa nasce da molto lontano da quando ero piccola eh vengo da comunque da una famiglia emigrante che si è poi trasferita all'estero e e io sono una come descrivo nel mio libro pensieri fugaci una dotata per definizione dalla città di Chiesi eh dove vivo il lavoro dal millenovecentonovantotto bene perché mi sono candidata perché io nel corso della mia vita ho sempre avuto l'esperienza di raffrontare di rapportarmi e confrontarmi con la realtà di una donna di una persona e soprattutto di un emigrante eh questa sensazione eh di essere donna emigrante e comunque donna eh in quanto tale me la sono poi dovuta faticare e non poco e questa considerazione mi ha spinta oggi a portarmi qui a questa candidatura perché perché praticamente penso che nella società moderna eh dove ancora ci sono molti pregiudizi sulla donna dove le donne all'interno dell'ambito del del mondo del lavoro sono considerate non propriamente come o alla pari dell'uomo e dove ancora molti uomini la fanno da padrona dove io penso invece ci sia bisogno di collaborazione di compartecipazione e questo è il mio intento eh è ovvio che il il lavoro è è difficile perché noi comunque veniamo da una tradizione e da una cultura che non ci appartiene in quanto tale noi abbiamo avuto sempre delle famiglie patriarcali in questo senso tranne in qualche occasione dove ci sono state comunque delle realtà matriarcali ma non è questo il mio intento fare differenza tra padre o madre o matriarcale o patriarcale quanto centrare il bisogno di compartecipazione ecco io vedo attraverso la mia esperienza non soltanto anche lavorativa dove ancora si vive comunque di differenza ecco fai l'infermiera per dire e si è schedato in un certo senso come alla vecchia maniera oppure fai un altro lavoro e ma questa dove vuole arrivare oppure nel mondo della cultura dove io mi sono impegnata in questi ultimi anni e ho visto che anche lì è un mondo ancora molto molto maschilista allora ho detto bene io vorrei poter portare la mia voce vorrei e uso sempre il condizionale in questo senso perché penso che poter dare un contributo e riuscire in questo intento non è facile noi abbiamo avuto grandi donne che hanno poi fatto la differenza anche a livello istituzionale ma in questo senso bisogna combattere ancora ed è una battaglia dura difficile l'abbiamo visto anche in questi giorni a livello mondiale dove comunque ci sono ancora delle realtà in altri stati dove vengono negati alcuni diritti alle donne e questo fa fa pensare fa pensare come nel 2021 ancora ci si possa imbarazzare di fronte a una donna che emerge che viene fuori o un diritto acquisito noi in Italia abbiamo tante leggi che ancora non ci permettono soprattutto per esempio quello sull'abuso sullo stupro sulla violenza io penso per esempio da gennaio a marzo quante donne hanno perso la vita per il femminicidio e quindi una legge ancora incompleta che deve avvenire che deve essere completata che deve essere ulteriormente sviluppata e portata avanti ecco in tutti questi aspetti in tutti questi ambiti noi donne dobbiamo non soltanto far sentire la nostra voce ma anche soprattutto essere quelle che devono far comprendere agli uomini il significato di essere un tutt'uno o perlomeno cercare di far capire questo messaggio di mandare di trasmettere questo messaggio e in tutto questo io credo che dovendo o potendo rappresentare questa realtà nostra Iesina con questa grande opportunità che ci viene data sia il momento giusto per partire quindi la mia candidatura vuole essere un soggello a questa mia idea idea di una donna che non deve essere per forza leader ma deve essere comunque presente in tutte le sue sfaccettature e in tutti i suoi ambiti del sapere che siano esse dal mondo della famiglia della scuola del lavoro della cultura della società in genere quindi credo fortemente in questo senso di appartenenza e la parola appartenenza per me non è in termini astratto ma ha un preciso momento di collocazione ed è quello appunto che coincide laddove la mia libertà finisce inizia quella dell'altro ma come individuo e quindi in questo ambito che siano essi uomini o donne devono trovare un modo di potersi compenetrare di potersi riappacificare anche con l'anima lasciatemelo passare a dentro ok grazie per me è un momento significativo grazie grazie a Maria Teresa Chechile adesso andiamo con Cimarelli Marinella vi invito a stare nei cinque minuti di presentazione perché se no non facciamo in tempo Marinella a te bene mi sentite bene? sì benissimo allora mi presento anzitutto per chi non mi conosce io ho sessantasei anni sono in pensione da tre e dico subito che potrei dedicarmi a questa consulta nell'incarico che ho dato come disponibilità sicuramente tanto e lo farei con estremo piacere perché vi ricollego a quello che è stato il mio lavoro per quarant'anni partendo dal fatto che io ero già insegnante elementare diplomata all'istituto magistrale e dopo alcune supplenze poi ho studiato per assistente sociale e ho scelto di fare questa professione perfezionata nel 2004 quando è uscito il primo corso di laurea in tutta Italia solo a Trieste alla facoltà di Trieste scienze della formazione per assistenti sociali e avevo già quarantasette anni e con il treno viaggiavo di notte e studiavo al giorno lavorando persino quindi faticosamente dico sempre lo rifarei una fatica terribile ma lo rifarei questo è dettato dalla passione che ho avuto per il lavoro dico il lavoro perché mi ha dato la possibilità di tenere conto di avere il privilegio di un osservatorio di tutte le problematiche sociali e sanitarie veramente a 360 gradi in quarant'anni di servizio lavorando prima sul territorio negli ultimi dodici tredici anni presso l'ospedale di Giesi il territorio ha significato interessarsi dei disabili portatori vendica proprio meno grave degli anziani delle ragazze madri interessarsi delle adozioni dell'affiedamento familiare dell'interruzione di gravidanza interessarsi quindi delle tematiche del consultorio e gli ultimi anni immaginate il fenomeno dell'immigrazione e ho scritto un libro quando sono andato in pensione ho pensato infatti che tra tutti i libri che scrivo perché poi parecchie lo sapranno e compagno su un quotidiano oppure una rubrica dal 2014 Giesi in rima scrivo in vernacolo cose in italiano corretto serie e altre più che fanno sorridere perché ovviamente il quotidiano ecco e voglio dire che appunto in questo libro che è di preparazione diciamo di stato per gli assistenti sociali si legge un pochino tutta quella che è il sinto e io avrei chiuso qui se c'è qualche domanda rispondo se no grazie Marinella Zimarelli e adesso andiamo con Monica Rizzi Monica ecco eccomi mi sentite sì allora buonasera a tutti ringrazio il comune di Iesi l'assessore Marisa Campanelli una carissima amica e e niente io mi sono diciamo interessata a questo progetto nel diciamo controllare studiare quelle che sono le funzioni che avrà questa consulta diciamo che un input importante per me è stato l'interesse che avrà questa consulta per per la donna e anche per le pari opportunità per la donna perché mio malgrado in questi anni diciamo gli ultimi cinque anni mi sono trovata a vivere una situazione molto molto difficile molto molto dolorosa che ancora non è finita e posso dire che che questo mi ha spinto scusate non ho non ho detto io mi chiamo Monica Ricci sono avvocato sono counselor e attualmente mi occupo della parte amministrativa legale dell'azienda di famiglia che opera nel settore della della carpenteria meccanica avevo tralasciato questo aspetto scusate e quindi volevo ecco dire che io essendo counselor ritengo particolarmente importante fondamentale in quello che sono le relazioni umane quindi i rapporti tra le persone l'aspetto dell'ascolto un aspetto che in questo momento vedo assolutamente poco presente tutti sono abituati a parlare ma in realtà pochissime persone sono abituate ad ascoltare in questo frangente che mi è capitato quindi in questa situazione diciamo pure di stalking che ho subito devo dire che sono rimasta non solo diciamo traumatizzata da quello che mi succedeva ovviamente ma la cosa che mi ha fatto particolarmente dolore e che ancora ad oggi non riesco molto ad accettare è l'essere l'essermi trovata completamente sola ad affrontare questa cosa questo dico questo perché perché in realtà quando io cercavo aiuto quello che mi veniva detto era che veniva minimizzato quello che io provavo quello che chiedevo e mi veniva sempre detto ma no ma dai vedrai tutto finirà tutto eccetera eccetera e la cosa che mi ha lasciato veramente sofferente è che a parte le donne le amiche che mi sono state vicine perché le donne hanno avuto un orecchio a quello che che pativo e che chiedevo ma gli uomini assolutamente no assolutamente no ho cercato aiuto e e non l'ho avuto non l'ho avuto soprattutto non ho avuto ascolto perché nessuno mai mi ha chiesto ma che cosa ti senti ma qual è il tuo la tua paura ma qual è quindi questo mi ha segnato moltissimo e pertanto nel momento in cui ho avuto l'opportunità di poter partecipare a questa a questa consulta che in realtà come fra i suoi fini ha proprio questo di supportare no la donna ho accettato molto volentieri insomma naturalmente spero che tutti quanti insieme potremo fare tanto anche nel campo nel campo della discriminazione in genere della discriminazione in genere e quindi anche nell'ambito delle pari opportunità ovviamente che come dice Marisa forse nella città non ha avuto grande grande spazio e quindi diciamo che concludo dicendo questo che vorrei poter far qualcosa per le discriminazioni in senso lato e soprattutto dare ascolto e dare voce al contempo senza differenza tra uomo donna che sia a tutti coloro che possono trovarsi in situazioni di difficoltà di di discriminazione e e di sofferenza grazie a Monica Ricci e adesso concludiamo con Gianfranca Schiavoni sì buonasera sì sono Gianfranca Schiavoni sono Iesina ho cinquantuno anni e due figli adolescenti grandi insomma uno di diciannove e l'altra di venti anni che studiano io sono in questo momento la la presidente della FIDAPA quindi mi sono candidata perché in questi ultimi anni mi sono occupata in prima persona di quello che di quelle sono le le questioni femminili diciamo che il tema della consulta lo seguo grazie a questa associazione da diversi anni ma soprattutto negli ultimi due anni nella mia veste appunto di presidente me ne sono occupata in prima persona e il tema chiaramente è importante ma anche quello che giustamente l'assessore con cui ho collaborato in questo periodo ci ha sottolineato anche le pari opportunità cioè l'argomento va esteso non possiamo focalizzarci soltanto sulle disparità rivolte nei confronti delle donne ma anche appunto di quelli che sono gli ambiti delle pari opportunità per quella che è l'esperienza mia personale abbiamo lavorato su diversi argomenti che riguardano gli aspetti della vita femminile e abbiamo cercato come movimento come associazione proprio di promuovere una cultura che fosse accogliente nei confronti delle donne ma soprattutto che promuovesse il riconoscimento di pari opportunità e il riconoscimento appunto delle capacità femminili nei diversi ambiti devo dire che gli argomenti che abbiamo trattato ci hanno portato anche a cercare di stimolare una crescita nelle competenze nelle donne e a cercare di sviluppare una cultura che in qualche modo promuova e valorizzi le eccellenze al femminile ecco diciamo che abbiamo anche organizzato convegni negli ambiti più disparati perché sicuramente è il confronto quello che è premiante non possiamo arroccarci in una posizione per cui le donne sono da una parte e gli uomini dall'altra dobbiamo confrontarci perché soltanto attraverso il dibattito possiamo trovare la strada per conciliare appunto le differenze secondo me la sfida in questo tavolo di lavoro sarà questa cioè appunto quella di promuovere uno spazio sempre maggiore per le donne e diciamo ecco cominciare a costruire dei ponti perché ad oggi devo dire che gli ostacoli sono sono tanti ma lo spazio è soltanto per promuoverci e per lavorare insomma accanto agli uomini per cui pensare semplicemente a una consulta delle donne chiusa nell'ambito delle donne non lo ritengo costruttivo dobbiamo confrontarci con gli uomini e trovare appunto delle soluzioni a quelle che sono le differenze di genere non non ho detto di cosa mi occupo eh lavoro eh nelle aziende alimentari faccio consulenza in ambito di sicurezza alimentare ho una formazione umanistica ho scritto un libro su Cristina Colocci onorati grazie tanto anche Gianfranca Schiavoni e penso che se tutti tutti i candidati sono si sono presentati adesso potremmo procedere con le votazioni sono cinquantanove eh allora perché entra adesso ricontiamo un attimo oppure facciamo siccome prima ce ne mancava uno io direi di leggere quelli che non ho spuntato se nel frattempo sei solo gli assenti allora eh vediamo quelli che non c'è il pallino se per caso si sono vediamo se si sono solo una solo una verifica se si sono aggiunte le persone che prima mancavano Alessandrini Lara non c'è Augelli Tito Bergantino Chiara Bucca Maria Luisa Cardinali Maria Letizia Cufolotti Maria Vittoria Grilli Virginia Illuminati Irene Illuminati Rosi Maria Cristina quindi questi non ci sono va bene così ecco ecco facciamo la conta cinque sei sette otto nove dieci unici quattore quattore cinque sette dicio sette dicio diciannove venti ventuno ventidue ventitré ventiquattro venticinquantisei ventisette vento 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 trenta trentatré trentasei trentanove quarant 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 tre quarantasei quarantanove cinquanta tre sei nove cinquantanove 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 c'è sempre quello di prima questo uno che non c'è chi è scusate io sono Fantone Tiziana sono entrata alle sei quarant però non mi avete Fantone Tiziana l'abbiamo scritta l'abbiamo scritta siamo accorti ci manca una persona che non riusciamo a a trovare allora è Bucca Bucca che è presente però risponde a Bucca cioè la vedo ecco sì la vedo anch'io tra l'altro ho visto che sta tentando di scrivere qualcosa io credo di connessione ma c'è esatto ecco sì ci siamo allora ok quindi sono sessanta sessanta adesso faccio partire un sondaggio su Zoom loro dovrebbero votare sul sondaggio ok hai cancellato quel 171 allora su sì su Zoom su Zoom farà partire partire il sondaggio Simone Brunori voi dovete votare il link che c'è un link perché vi comparirà sullo schermo quindi ecco un solo voto un solo nome cioè devi cliccare la B una sola volta invia invia dovete cliccare invia una sola volta no adesso intanto lì sarà solo eh quell'altro sarà tutto va bene questo è facile allora invaginato ok grazie a tutti Grazie. 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 12, 15, 15, 18, 28, 31, 51, 57, 58, sì. Non sapevo se la scheda bianca era consigliera o no, è consiglierata. Però c'era una persona che ti aveva chiesto un'informazione. Sì, ho aumentato di uno, ne manca uno. Sì, è risposto. Era quello che scriveva, si vota e si cliccherò io. Ne manca uno. Chi è? Il marito di pelle, perché non si manca molto, sì. Chi è? Vogliamo il nostro dirigente. Se qualcuno ha votato, votasse, perché tanto si accorge che quello che ha votato gli scompare. Se qualcuno non ha votato, mancherebbe una persona. Non so se c'è qualcuno che non ha votato, perché quelli che hanno votato scompare. Non so se è quella pacca. Se ne ha votato scompare. Esatto, esatto. Quindi quelli che sono scompare, ci deve essere una persona che non ha votato. Io ho votato, però, visto che ho inviato ed è subito scomparso, penso che... Sì, sì, va bene, allora. Da un commento feedback, giusto? Cioè, non è che dice lui. Non so se è quella pacca. Eh, quella buca. La signora Bucca ha votato? Se non riesce nemmeno a scrivere. Sì, sì, ha votato, così mi dicono. Sì, ok. Sì, ha votato. Allora, non ce sa. Intanto è cinquantanove, se non ce sa. No, va bene. No, la scheda bianca è diversa. Uno non esprime il voto e... Manca un voto. Manca un voto, non si dice. Che facciamo? Non è un'astenuta. C'è qualcuno che non ha votato. Eh, non è un'astenuta. No, tanto. Da Bucca, ma mi è comparto il sondaggio? Ho votato, inviato e scomparso. Quindi va bene? Sì. Grazie, Maria Luisa, va bene? Sì. Ok. Risulta un'astenuta. Sì, sì, prego. 5 secondi, fra 5 minuti, così è pronto. Due. Scusate, potete controllare il mio, se è andato bene? Eh, sì. No, no, ma va bene, va bene. A posto? Ok, grazie. Ma scusate, se è un astenuto, non si potserà, perché vuole rimanere anche nell'anonimazione. Esatto, esatto. No, è tutti anonimi, è tutto, bisogna andare a dirlo, che non è, non si vede. Va bene. Allora. Aspetta, aspetta, non ve li fa partire, devo segnare? Potete, allora, verranno condivisi i risultati adesso, da tutti voi verranno condivisi i risultati, in modo che potete vedere tutti i risultati. Il voto è segreto, quindi noi non riusciamo a vedere chi ha espresso la votazione. Non ve lo togli un attimo, eh? Eh, scortechini Gianna, scortechini Gianna non riesce a votare, vedi, ha scritto Chiara Caccio. Dice che non le ha parso il link. Eh, ormai è parso, vale come astenuto. Va bene, vale come astenuto, Chiara. Esatto. Eh, no, tanto ormai non, un voto non modifica. Mi riesca da via anche una stessa. Ma vieni l'ansia, volete? Aspetta un secondo, 26, 40, 46, 56, 58. Ok. Abbiamo abbiamo Schiavone Gianfranca che ha preso il 44% dei voti, Poi Ricci Monica con il 24%, Carnevali Cristina 20%, Chechile Maria Teresa e Cimarelli Marinella 5% e 5%. Quindi dichiariamo come presidente dell'Assemblea Schiavone Gianfranca. Grazie, grazie presidente, grazie assessore. Per motivi pratici continuiamo a gestire da qua le operazioni, visto che ovviamente c'è una situazione particolare, perché poi se no in altre situazioni sarebbe il presidente dell'Assemblea che poi gestirà tutte le operazioni a prossima occasione. Adesso solo per motivi pratici, tecnici, quindi intanto complimenti alla signora Schiavone, che è il primo presidente dell'Assemblea della Consulta per le donne e per le pari opportunità del Comune di Giesi. Quindi adesso procediamo con le... Allora, dovremmo procedere con la presentazione delle altre persone, delle altre candidature. Allora, chi... Già quelle che si sono presentate come presidenti, appunto, va bene così. Le altre che mancano... Ce l'hai io? Sì, ecco, ecco, ecco qui. Allora. Queste, queste. Baccani. Ah, tutte queste, va bene. Sì, e togli la prampa. Allora. No, ma anche le altre che si sono presentate. Allora, Baccani Gaia, se si vuole presentare, sempre tenendosi su un tempo di massimo, massimo, ecco, cinque minuti al massimo. Baccani Gaia. Sì, eccomi. Sì, sarò coincisa, grazie. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio, come hanno fatto le precedenti candidate, il Comune di Giesi, che hanno restituito un organo così fondamentale. Allora, che dire. Io ho 23 anni, sono Giesina Doc. Ho fatto il ricevo scientifico Leonardo da Vinci qui a Giesi, dove ho fatto anche rappresentante dell'istituto. Sono prossima alla laurea in Scienze Statistiche all'Università di Bologna e da tre anni svolgo il ruolo di presidente di un'associazione di volontariato, un'associazione culturale, no profit del territorio di Giesi, che si chiama Impact, associazione culturale. La stessa che ho fondato insieme a altri quattro ragazzi. Sia infatti nella fondazione che poi negli anni, nel direttivo, siamo rimasti sempre in questo organico. Sono sempre stata l'unica ragazza e la più piccola, tra l'altro. Quindi la mia associazione si definisce culturale in senso trasversale. Non tratta solo tematiche di attualità, di politica o qualsivoglia ambito della cultura, ma le tratta un po' tutte. Per cui assolutamente la tematica della parità di genere e della discriminazione si inserisce perfettamente. È una tematica che sento molto cara a me stessa, anche per il ruolo che ricopro e per le purtroppo tante volte che ho riscontrato questa disparità. Dalla volta in cui all'evento l'invitato, un ospite d'eccezione, non si gira verso di me, anzi mi dà le spalle, perché crede che è il segretario il presidente, perché veramente quando giriamo insieme sembriamo il lui altissimo, grande, mi sono più piccina e mi dà le spalle semplicemente perché mi vede più piccina e pensa che non sono la presidente. O quando siamo andati in banca ad aprire il conto associativo, quando il responsabile ha chiesto il documento del presidente e si rivolge a lui, dando per scontato che la donna è più piccola, non lo potesse essere. Beh, ci sono state tante situazioni fastidiose che mandi giù e che è ora nel 2021 che piano piano si presentino, quantomeno sempre meno, per poi arrivare a una situazione in cui non si presentano. Poi da ragazza studentessa che mette il cuore anche nello studio, è abbastanza urticante il pensiero che un domani, quando entrerò nel mondo del lavoro, ambire alla posizione di dirigente nell'azienda in cui potrei lavorare, per me sarà più difficile, perché ad oggi c'è nemmeno il 18% o a malapena il 18% nell'Unione Europea dei dirigenti e della fazione femminile, rappresentato dalla componente femminile. E mi scoccia allo stesso modo che un domani il mio salario possa valere l'85% dell'euro che guadagna un mio pari, ma uomo. Certo, la consulta per le donne e per le pari opportunità di Iesi non cambierà tutto questa situazione, però potrà sicuramente sensibilizzare la comunità di riferimento e sarei felicissima di partecipare al consiglio direttivo anche per rappresentare la componente più giovane che magari si potrebbe identificare in me e magari portare la loro voce, anche comunque con una chiave di lettura giovane, perché anche noi ragazze, diciamo al giorno d'oggi, sia dalla musica, sia da mille altri input, percepiamo questa disparità di genere. Ed è brutto che le nuove generazioni, comunque parlo io da giovanissima, per carità, però pensare che la dodicenne cresca ascoltando una musica puramente sessista dispiace, perché sicuramente si vede lontano la prosa in una certa parità. Termino qui la rappresentazione. Grazie Gaia, Gaia Baccani. Adesso Barbara Basile. Sì, salve, sono Barbara Basile. Anch'io ringrazio il comune di Iesi e sarò molto più breve di tutte le altre. Allora, attualmente io sto facendo un corso per diventare operatore sociosanitario e ho un po' di esperienza nell'organizzazione di convegni e quindi diciamo che magari potrei spendere questa mia esperienza nel caso in cui dovessi far parte appunto del direttivo e chiaramente sono molto interessata a questo argomento in quanto donna e senza che so raccontare ovviamente anch'io ho le mie motivazioni insomma per partecipare sperando di dare un contributo positivo, insomma. Tutto qua. Grazie Barbara Basile e adesso Cirilli Paola. Attivo. Buonasera a tutti. Mi presento perché alcuni, come ho visto, i nominativi dai volti magari li conoscono come io li conosco, altri no. Io sono in pensione da poco, ho fatto degli studi classici, una laurea in giurisprudenza e per una vita l'impiegato proprio a Comune di Giesi e quindi nel settore pubblico. Poi per un lungo periodo, un lungo periodo, otto anni, circa, otto, dieci anni, mi sono occupata anche a tempo pieno di attività sindacale e in questa attività sindacale oltre ai problemi dei lavoratori, seguendo io più contratti, non solo del pubblico, ma anche contratti del settore privato dove ci sono i problemi più veri anche nei confronti della donna e quindi sono stata anche chiamata per tutelare delle lavoratrici e mi sono resa conto dei problemi reali, di quello che c'è dietro il lavoratore perché non dimentichiamoci mai che i problemi del lavoro sì, ma poi ne trasbagliono tanti altri, soprattutto, ripeto, in quel settore privato dove magari certi tipi di ricatti, dove delle firme, licenziamenti, eccetera, non sono tavole ma sono realtà. E quindi ho pensato che intanto perché comunque mi piace, mi è sempre piaciuto occuparmi di qualcosa che riguardi la società, il sociale, e ho pensato che forse questa mia esperienza poteva essere utile nell'ambito della consulta per le donne e le varie opportunità. dico cosa mi ha colpito di questo nome, la consulta per le donne e per le varie opportunità. Mi ha colpito il fatto che siano stati invitati anche degli uomini perché io penso che al di là del tutto vero, tutto, la fatica che fa la donna per affermarsi sul lavoro, la fatica che ha fatto, ma anche nel percorso della donna da anni e anni indietro per conquistare qualsiasi diritto, però io penso che la varie opportunità debba essere intesa come avere le stesse possibilità. Cioè non ci devono regalare niente, dobbiamo avere le stesse possibilità. Ed è importante che l'uomo capisca questo perché se non camminiamo in maniera parallela secondo me sarà molto più difficile per la donna e io penso che quello su cui si debba lavorare molto e mi ha colpito per esempio il fatto di entrare nelle scuole per portare questi messaggi e io penso che si debba proprio recuperare una cultura del rispetto della donna rispetto in tutto nella sua preparazione nel suo lavoro nel suo essere donna perché io penso che a volte questo non rispetto della donna si vede anche dalle piccole cose magari anche tra ragazzini tra adolescenti la battuta un po' sessista la presa in giro e poi se i ragazzi crescono così poi cominciano a pensare che è vero che è giusto trattare una donna così e quindi io penso che dobbiamo proprio la dobbiamo la consulta delle donne dovrà impegnarsi molto in questo campo perché i ragazzi i giovani sono il futuro e lo sono proprio anche per poter dare un mondo migliore un mondo dove si possa convivere insieme perché questo è la cosa più importante poi è ovvio i problemi della donna sono tantissimi la donna deve sempre scegliere deve praticare più degli altri e poi li conosciamo e è inutile che li sto a ripetere insomma e quindi niente grazie Paola grazie e adesso Ferrucci Lorella c'è Ferrucci Lorella ecco ecco Lorella Lorella il microfono microfono Lorella segna che apri apri il microfono adesso dovrebbe essere aperto va bene va bene adesso va bene Lorella allora intanto un saluto a tutte e ovviamente complimenti al presidente perché è stato a Tavessa io sono una donna di 58 anni sposata con una figlia di 21 lavoro ancora lavoro e penso che lavorerò fino a 67 anni e e Dio vorrà e niente io ho visto questo annuncio mi sono candidata e siccome pensavo come dire ho proposto il mio nome perché pensavo che non che non che non ci fossero persone a sufficienza donne a sufficienza no nel comporre paradossalmente una contesta mi sono meravigliata dall'eleco che ho potuto vedere dai denominativi e sinceramente sono anche contenta perché pensavo che questo fosse un discorso anche lontano nei tempi di pari opportunità perché è tanti anni che parliamo tutte le pari opportunità poi sono contenta e ho visto persone giovani che sono almeno hanno provato provano l'interesse universitivo e quindi io per esempio visto che ci sono anche parecchie candidate come dire a comporto della presidente lascerei volentieri il posto Wallabaccani Gaia perché ho visto che ci sono delle ragazze giovani e quindi magari pur prestando e anche onorato a far parte della Sibra sarei felicissima felicissima che alcune di noi come dire proponessero questa questa figura giovane che secondo me oltre ad essere un supporto importante alla presidente magari forse forse porta avanti quello che io da ragazza avevo iniziato in gruppi storici e quindi come dire Gaia per me come dire volendote potendoti rivotare io ti voterei adesso come presidente se fosse interita ringrazio comunque del fatto che ho potuto partecipare partecipo e se c'è bisogno di me è ben volentieri però ecco non nel direttivo perché lascio il posto a chi porta avanti ecco una pari opportunità in maniera anche moderna e costitiva ringrazio tutti e vi continuo ad ascoltare grazie grazie Lorella grazie Lorella per questa altruistica scelta quindi la togliamo da dal direttivo dalla possibilità di essere votata e allora Giannuzzi Antonella Simone capito? Giannuzzi Antonella scusate 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 dopo allora buonasera a tutti mi presento prima di tutto prima di presentarmi permettetemi di fare un saluto a Michele che ritrovo con piacere un saluto chiaramente all'assessore all'ex presidente della della consulta e passo subito in sintesi a presentarmi Antonella Giannuzzi docente di scuola secondaria di secondo grado attualmente quindi sul territorio Iesino e la mia candidatura nasce proprio dal fatto che da sempre come docente mi sono impegnata chiaramente non solo nella scuola dove ho prestato nelle varie scuole dove ho prestato il servizio ma soprattutto anche ho avuto un'esperienza quasi ottennale di diciamo di collaborare con i direttori dell'ufficio scolastico quindi a supporto delle scuole di iniziative che sensibilizzassero le nuove generazioni le generazioni attività che proprio si è spinta molto spesso proprio in questa direzione e quindi proprio la mia candidatura nasce dalla volontà semplice e modesta di mettere a disposizione le mie competenze nel tempo acquisite dell'importanza di dare chiaramente supporto al territorio quindi parlare quando si parla di comunità educante non intendo soltanto la scuola ma intendo proprio tutto il territorio cioè tutti i soggetti presenti su un territorio di riferimento costituiscono devono impegnarsi proprio per dare senso contenuto alle parole contenuto alle parole che molto spesso si usano pari opportunità attenzione sensibilizzazione ai valori inclusione l'avete stata utilizzata anche nella presentazione e che non rimangano semplicemente meri parole in poche parole sui documenti su anche un regolamento ma credo che appunto con l'impegno di noi tutte quindi indipendentemente concordo con la collega con la posso già mi permetto di chiamarla Lorella Ferrucci amica che indipendentemente dall'essere nel direttivo l'importante è essere nell'assemblea l'importante è poter partecipare l'importante è dare un proprio contributo tutto sempre in relazione alle proprie abilità e alle proprie competenze nient'altro grazie Antonella e adesso andiamo a Magnani Milva buonasera a tutte e complimenti alla Presidente appena eletta un saluto all'assessore e anche al Presidente del Consiglio Daniele che conosco allora mi presento brevemente io sono laureata in psicologia clinica ho una specializzazione in consulenza sessuologica sono anche mediatore civile in base al decreto legislativo 28 del 2008 e ho fatto anche un corso di diritto europeo questo perché lo dico il diritto europeo perché io penso che nelle commissioni delle pari opportunità sia importante anche conoscere e apportare ognuno di noi ha una ricchezza da apportare una propria esperienza una propria conoscenza io ho un'esperienza di quello che è la macchina burocratica amministrativa perché per ben 24 25 anni ho ricoperto cariche elettive all'interno dei vari comuni provincia oggi sono contentissima non ha importanza se sarò nel direttivo solamente nell'assemblea non importa ma sono contenta di partecipare alla nascita di questa consulta perché ho già fatto in passato questa esperienza perché l'ho voluta fortemente in provincia richiesta al tempo della Saracinelli e nonostante era una presidente purtroppo donna a volte le nostre nemiche sono anche le donne su questo argomento purtroppo ho i piedi per terra e quindi dovremmo lavorare anche in quel senso non ci hanno dato non ci ha dato allora la possibilità di fare la commissione delle pari opportunità siamo riusciti col presidente Giancarli e questa commissione delle pari opportunità abbiamo voluto dare proprio l'avevo proprio richiesto io perché io sono sempre molto concreta sulle cose di dare un indirizzo non nel senso come si usava magari per la inaugurazione o la pubblicità di un libro al femminile si spendevano soldi per i fiori nei vari convegni io volevo qualcosa di concreto per dare risposte alle donne e abbiamo creato il primo centro antiviolenza nella provincia di Ancona mi ricordo che aveva il numero 071 che poi quando nel 2006 a livello di ministero si è creato il numero 1522 noi provincia di Ancona siamo stati elogiati perché già avevamo sul territorio una realtà e quindi abbiamo avuto il primo centro antiviolenza da questa piccola cosa che noi allora avevamo creato perché pensavamo che la commissione pari opportunità allora io parlo lo capirete diversi anni fa più di vent'anni fa non era conosciuta dalle donne non c'era questa conoscenza dell'esistenza della commissione pari opportunità e quindi abbiamo voluto una commissione e forse a Iesi qualcuno avrà pure partecipato io non mi ricordo adesso non conosco tutte le signore presenti ma abbiamo fatto una commissione pari opportunità itinerante perché noi volevamo ascoltare sul territorio i bisogni e le difficoltà delle donne e soprattutto far conoscere quello che era la commissione pari opportunità oggi a distanza di 20 anni mi sembra che comunque sia una situazione un argomento magari più conosciuto però purtroppo purtroppo io dico ho sentito prima parlare la ragazza Gaia che è fantastica perché una ragazza ancora piena di iniziative e quindi sono d'accordo che le giovani devono andare avanti anche io però ho capito che da come si parla ancora non è cambiato niente non è purtroppo cambiato niente allora secondo me queste commissioni pari opportunità dovrebbero avere un'innovazione una cosa diversa perché se noi continuiamo ad essere una riserva di indiani e ci parliamo tra noi e già è tanto che abbiamo fatto entrare degli uomini ben vengano ma è una battaglia che viene da lontano e oggi abbiamo dei ragazzi ho visto anche i giovani che si stanno interessando di pari opportunità però ricordatevi dalla mia esperienza perché non ho detto che sono stata presidente della commissione provinciale donne elette dal 2005 al 2007 sono stata nella consulta nazionale delle pari opportunità dell'Unione Provincia Italiana ho avuto diverse esperienze vi parlo solamente quello che riguarda la pari opportunità perché poi sono stata nel direttivo dell'Upi nello IACP nell'istituto zoprofilattico Marchio Umbria per 10 anni tuttora sono adesso vicepresidente dell'interporto Aiesi dell'interporto Marche però ho visto che se noi non diamo questa è una mia idea penso di può essere anche non condivisa ma per l'esperienza che ho avuto in tutti questi anni che se noi non diamo una direzione diversa a questa commissione di pari opportunità continueremo come ho visto in questi 20 anni a parlare tra noi donne quindi noi dobbiamo entrare fortemente nella macchina burocratica nella macchina amministrativa e cercare di arrivare nei posti decisionali farci sentire perché lì poi che si decidono le cose sono lì che poi si ottengono i risultati quindi come 20 anni fa ho voluto dare alla commissione pari opportunità una strada diversa io penso che anche noi oggi dovremmo almeno una mia proposta che può essere anche non condivisa però io esprimo il mio pensiero una direzione diversa a queste pari opportunità che debba essere non un discorso tra noi una lamentela tra noi non vengo riconosciuta siamo pagate meno dobbiamo fare entrare un po' più a gamba tesa permettetemi di dire questo e farci sentire maggiormente dove ci dobbiamo far sentire io questo cioè questo è il mio pensiero poi se farò parte del direttivo apporterò la mia ormai quasi trentennale esperienza oppure non fa niente starò nell'assemblea e avanti le giovani io sarò dietro e parteciperò comunque con tanto piacere a tutta questa iniziativa che soprattutto dare un battesimo il secondo battesimo che do a una commissione fare opportunità partecipo più o meno l'altra l'ho fortemente voluta questa partecipo solo voi siete prima di me quindi però mi fa piacere grazie Milva Magnani grazie molto e poi c'è Marinelli Laura eccola qua sono Laura Marinelli ho 60 anni ho vissuto sulla mia pelle tante situazioni di discriminazione moltissime nei diversi ruoli professionali che ho vissuto perché sono stata dipendente di una multinazionale discriminata poi sono stata imprenditrice nel settore della comunicazione anche lì essere donna non aiutava docente anche universitario e anche lì vedi un sacco di situazioni giornalista e oggi sono un coach per me che ho 60 anni e ho avuto la fortuna di vedere anche altri paesi soprattutto il nord Europa e ho visto che per fortuna qualcosa di meglio esiste e questa è una buona notizia per me è giunto il momento di impegnarmi non posso arrivare a 60 anni e vedere che sì qualcosa è cambiato perché la discriminazione a livello di soldi per dare una buona notizia a Gaglia al tempo mio era il 30% in meno oggi è un po' di meno però siamo sempre lontani mi fa incredibilmente piacere partecipare e contribuire con la mia esperienza proprio con quello che ho potuto vedere realizzare direttamente nella mia vita mi fa particolarmente piacere vedere anche una presenza di persone di età così diversa e di sessi così diversa perché solo così possiamo riuscire veramente forse a cambiare qualche cosina ad accelerare perché in fondo noi dobbiamo essere un motore di accelerazione spero di fare bene e spero di contribuire imparerò anche io ogni giorno perché questo non è un ruolo che conosco da molto e quindi dovrò imparare grazie grazie Laura Marinelli e l'ultima è Saturni Letizia eccomi qua buonasera a tutti anche io mi unisco ai ringraziamenti e mi permetto anche di aggiungere i complimenti alla neo eletta presidente Gianfranca Schiavoni ora vi rubo solo pochi minuti fondamentalmente per dire il motivo per cui sono qua ho presentato la mia candidatura appena ho visto il bando uscito dal comune perché attratta dal connubio consulta per le donne e per le pari opportunità quindi queste due cose mi hanno subito colpita perché lasciava sottendere che non è un organo dedicato solo esclusivamente alla questione donna ma la vede anche in altre sfaccettature quindi inserisce il discorso delle pari opportunità per cui questo già aveva fatto aveva destato insomma il mio interesse ancora più l'interesse è aumentato nel momento in cui si è cominciata a delineare un po' la composizione vedendo quindi che c'è una perfetta integrazione tra quelli che sono i due mondi che invece sembrano essere sempre illizza tra loro cioè il mondo della donna con il mondo dell'uomo credo invece piuttosto che sia vincente una perfetta integrazione tra i due in modo tale che poi obiettivi interessanti e veramente che possano portare poi a dei cambiamenti epocali perché alla fine della fiera è questo quello che vogliamo si possano così ottenere in ultima battuta mi è piaciuto tantissimo ascoltare dall'assessore quelli che sono gli scopi un po' della consulta quando le ha letti all'inizio dell'apertura della nostra riunione e soprattutto mi sono risuonate alcune parole anche se non esplicitamente dette comunque che la consulta vuole fare informazione vuole educare perché fondamentalmente credo che siano questi i verbi quindi educare informare per poi cambiare un comportamento quindi se riusciamo a creare una buona sinergia tra di noi che siamo tante e quindi anche questa è un'altra profonda nota di merito a mio modo di vedere se riusciamo quindi a comunicare bene nel momento in cui andiamo a fare informazione educazione siamo appunto in un territorio che ha una moltiplicità e noi stessi lo stiamo rappresentando in questo consenso quindi riusciamo a raggiungere diversi ambiti beh credo che questo cambiamento di comportamento questo cambiamento di idee quindi questo cambiamento epocale possiamo essere in grado di farle e quindi auguro a tutti buon lavoro e sarei avrei piacere insomma di poter dare il mio contributo fattivo nel direttivo grazie a tutti grazie Letizia e grazie a tutti voi ecco ricordo che insieme a quelle che si sono presentate adesso concorrono anche Carnevali Cristina Chechile Maria Teresa Cimarelli Marinella Ferrucci Ferrucci Lorella Ricci Monica e Schiavoni Gianfranca no Gianfranca è stata eletta già presidente non concorre più Ferrucci chiedo scusa ritirata Ferrucci però si è ritirata infatti Ferrucci quindi ecco avrete comunque l'elenco che vi appare io adesso darei il via alla votazione arriverà un link sulla chat scusate si vota una persona sola o più persone come prima una sola un solo invio perché ecco mi raccomando e quindi una sola volta perché chiede invia un'altra risposta una sola volta arriva a tutti oppure chi si è candidata non gli arriva perché a me non è arrivato niente arriva a tutti a me non è arrivato a meno in meno è nella chat è nella chat a me sulla chat non è arrivato niente dovete guardare nella chat la chat io non riesco ad aprirlo il link dov'è il link dove c'è scritto chattare clicchi sul metto esce al lato esce il link dov'è la chat ma che ne so io questo sta a studiare sotto in basso vicino a partecipanti c'è scritto chattare perché non partecipanti vicino a partecipanti c'è chattare clicchi lì e si apre la chat chat non c'è non c'è il form si mi mi ha fatto ciò non c'è non c'è ma si non c'è l'unico non c'è la chat l'unico l'unico non c'è l'unico d'unico Nico Nico mi guardi qui come si fa votare mi dici come si fa votare sulla chat qui non vedo Grazie a tutti eh mancano sei persone quindi se magari quelle sei persone possono votare eh ci mancano sei voti chi non ha votato lo faccia eh adesso quattro adesso quattro mancano quattro persone mi dispiace sono Daniela Morresi io non riesco a votare allora nel caso la facciamo votare palesemente eh allora eh non c'è modo sì allora eh può votare palesemente sì Daniela ma fatelo scrivere in chat in colloquio prima non c'è allora siccome tipo di votazione non è segreto mentre quello del presidente è segreto se eh la signora ci vuole dire qual è la sua preferenza la aggiungiamo per così dire manualmente Letizia Saturni Letizia Saturni va bene quindi la aggiungiamo Vi consideriamo dopo quello esatto Scusate sono Maria Fazzi non riesco neanche io a votare Maria Fazzi se vuole se vuole ci può indicare la sua preferenza e noi la aggiungiamo Sì voto Letizia Saturni Letizia Saturni, ulteriore voto. Quindi ne dovrebbero mancare due. Ne mancano due. L'hai aggiornato? Hai già aggiornato? Sì, ce l'ha messa. Scorri un attimo per cortesia. Ancora due votanti. Due votanti. Due votanti. Chi non è sicuro di aver votato magari lo può dire. Se avete qualche problema fatecelo sapere. A meno che non dobbiamo considerarlo come astenzione. Eh. Eh sì. Aspettiamo ancora un po'. Aspettiamo ancora un po'. Se non ci sono indicazioni consideriamo astenuti insomma. Ecco. C'è qualcuno che sta tentando di votare e non riesce magari? Ce lo faccio sapere. Scusa, vi puoi controllare se ho votato? Non è possibile. Non è possibile. Ah no? Eh io ho votato però. Penso che sia andato tutto bene. Sì. Sì, se hai votato Norina mi sa che è andato bene. Tanto è a buon fine. E vabbè, due mancano. Ne manca? Uno. Uno solo. Manca un voto. No, ma allora non manca nessuno. Quanti siamo? 59. No, è bene. No, votavo tutti. 59. Ah no. Gli hanno una sette. A me. 61. Sì. Sì. No. ecco i risultati li condividiamo contro tutti allora condividiamo i risultati ecco fanno parte del direttivo dell'assemblea 5 Marinelli Laura Saturni Letizia Baccani Gaia Ricci Monica e Magnani Silvi Milba questi sono le 5 componenti dell'assemblea del direttivo del direttivo ok va bene quello che mi dirai lo schermo Simone con tutti i volti allora complimenti alla presidente a tutto il direttivo però ci tengo a dire una cosa che prima è stata rilevata da tutti cioè l'importante è partecipare all'assemblea e quindi tutti quanti darete lo stesso contributo quindi di fatto io mi auguro che sia un lavoro cooperativo sono contenta che lo spirito che avete espresso tutte voi nel presentarsi sia il mio spirito lo spirito con cui ho lavorato a questa consulta cioè uno spirito di collaborazione e uno spirito che vede la partecipazione degli uomini come fondamentale per noi anche per raggiungere quegli obiettivi che finora non abbiamo raggiunti perché io sono di quelle convinte che se il problema della violenza sulle donne è ancora molto forte perché non sono stati coinvolti sufficientemente gli uomini e io spero che questa consulta possa portare un cambiamento culturale nelle famiglie educativo da tutti i punti di vista per poter fare un passetto in più la consulta di Iesi non riserverà il problema ma potrà mettere un sassolino in un cambiamento importante io sono una sostenitrice accanita di questo che è stato rilevato anche da tutti voi e mi auguro che possiamo lavorare proprio per il cambiamento culturale quindi educativo che è fondamentale e gli uomini ci aiuteranno tanto io chiedo aiuto agli uomini anche e mi auguro che si aggiungano altri uomini alla consulta via via stava facendo a questo ci tengo tantissimo io direi che se non c'è se non c'è nessuno che vuole fare altre osservazioni se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa io se è possibile volevo curare buon lavoro alla presidente Gianfranca Schioni che ha tutto il consiglio direttivo io sono stato subito quando è uscita la notizia del comune di Chiesi aveva interesse a realizzare la consulta della donna una pari opportunità ho subito insomma ho subito pensato di partecipare perché comunque credo che sia una cosa molto molto importante e la presenza anche insomma di una componente maschile credo che sia importante che possa comunque dare un aiuto e far capire magari a chi diciamo di uomo tra virgolette non ha nulla quello che realmente c'è bisogno insomma in questo in questo paese insomma nelle nostre realtà quindi grazie grazie mille diciamo di aver organizzato questo e buon lavoro a tutti grazie a te Manuel lui si era anche proposto nel direttivo qualora non ci fossero stati sufficienti nominativi quindi ti ringraziamo doppiamente Manuel e speriamo che tu sia molto presente insieme a noi sicuramente io volevo soltanto dire questo ringrazio comunque di questa bella opportunità che è stata data a tutti quanti uomini e donne qui presenti e buon lavoro a chi fa parte della consulta buon lavoro alla presidente e il mio lavoro invece finisce qui nel senso che comunque sia io continuo sul campo direttamente ad affrontare le questioni giornaliere e buon lavoro e buona vita grazie io vorrei ringraziare tutti per la fiducia e assolutamente d'accordo con Manuel con Manuel e con la Campanelli cerchiamo di essere operativi pratici, concreti e di lavorare tanto sul territorio perché le sfide ci sono sono importanti cerchiamo di essere fattivi quindi a presto a tutti grazie una nota solo tecnica il direttivo non è ancora completo lo dicevo nel primo appuntamento perché mancano due consiglieri comunali uno di maggioranza e uno di minoranza che verranno designati dal consiglio comunale di martedì 30 solo a quel punto sarà compito dell'assessore Campanelli convocare il primo il primo consiglio direttivo ecco quindi credo che sarà breve insomma se non dopo Pasqua a quel punto tutti gli organi saranno pronti per essere operativi ok allora per la fiducia e non vedo l'ora di cominciare insomma facciamo sono pronta per lavorare aspettiamo i consiglieri comunali poi ci farete sapere va bene ciao a tutti allora volevo prendere la parola un secondo volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno votato soprattutto Lorella Ferrucci perché non ci conosciamo personalmente e a maggior ragione penso sia veramente stato un gesto magistrale non saprei come altrimenti definirlo e ci tengo a dire che ho proposto rispetto e riguardo nei confronti di chi è più grande di me e chi ha sicuramente più esperienza tant'è che quando mai l'altro giorno mi ha chiamata e ha fatto la domanda che ha fatto a tutte noi che ci siamo candidate chiedendo se era per il consiglio direttivo o per la presidenza ho detto assolutamente no alla presidenza perché penso ci debbano essere dei gradi e dei passi da affrontare piano piano lascio il posto ovviamente a chi ha più esperienza di me quello per il direttivo me la gioco ci trovo non appena che ho visto diciamo la l'affluenza di noi giovani che eravamo molti meno questa consulta mi sono detta vabbè non passerò mai e quindi mi fa ancora più piacere vedere che persone di cui ho gran rispetto e per cui avrei fatto anche intimamente un passo indietro mettendomi dietro alla loro esperienza abbiano invece creduto in me e dato questo piccolo spazio nel direttivo anche a una componente giovane che può sicuramente fare la portavoce rappresentare una parte della della comunità mi ringrazio veramente tutti di cuore forza Gaia grazie a tutti voi e allora ci 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 riaggiorniamo prestissimo va bene grazie a tutti marinella arrivederci arrivederci a tutti arrivederci arrivederci marisa arrivederci buonasera posso fare una domanda veloce sì velocissima dove si può vedere la schermata delle votazioni dei consiglieri del direttivo allora dove si può vedere la schermata aspetta marinella che io non lo so quella che è passata prima eh quella che è passata prima adesso lo chiedo eh marinella eh eccola eccola la vedi ah è visionabile e si può guardare in maniera chissa da qualche parte eh no no la puoi guardare adesso e basta me la fate scorre un attimo sì scorri va scorri scorri ecco quando sei grazie 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 quella lì che non si sapeva che cazzo va bene grazie marisa infiniti ringraziamenti io grazie a te marinella sei sempre carina e sempre eh insomma tu sei tu sei porti sempre un grande contributo marinella guarda io non vedo l'ora lo faccio volentieri lo farò mi raccomando mi raccomando marinella ci devi essere eh maniera forte e guarda il discorso è sicuramente trasversale sono d'accordo abbiamo bisogno di te ciao marinella ciao a tutti arrivederci buonasera grazie Grazie a tutti.